Tra le varie disabilità che possono accedere all'Ice Sledge Hockey abbiamo, oltre agli amputati, le persone affette da spina bifida. Sentiamo che cosa ci dice Massimo Bernardoni, referente degli sport paradiglici della Federazione Italiana Sport Ghiacci. Tra le patologie che si adattano alla disciplina dello Sledge Hockey certamente c'è anche la spina bifida. È una patologia particolare in quanto comunque mantiene una residualità muscolare degli arti superiori importante, quindi permette di poter effettuare tutti i movimenti necessari a questa disciplina che richiede naturalmente uno sforzo fisico degli arti superiori importante, fondamentale. In Italia purtroppo abbiamo ancora poche persone con questa patologia che si sono avvicinate alla disciplina, pertanto vogliamo invitare coloro che naturalmente riescono a avere un accesso abbastanza facile agli impianti di gioco a venire a provare, perché è uno sport veramente divertente, pur faticoso, ma l'invito è caloroso. Venite, vi faremo provare e sarà un'esperienza unica.